Due giorni di appuntamenti culturali a Villa Frigeri a Chieti con il collettivo Aware, di che cosa si tratterà? Nelle serate di giovedì 25 agosto e venerdì 26 ci saranno attività culturali di vario genere. Nella serata di giovedì proietteremo tre cortometraggi prodotti dalla casa di produzione pescarese One Shot Production su diverse tematiche legate al sociale che vanno dal tema dell'immigrazione fino alla tematica LGBT. Nella serata di venerdì invece daremo spazio alla musica locale con tre artisti del panorama teatino, Dian, Jimmy Hayes e Dan Vanad. Orario di inizio le 21 fino alla mezzanotte, speriamo di una partecipazione numerosa alla cittadinanza teatina e non solo. Il vostro collettivo culturale lancia cose urbane a Chieti ma in realtà avete già fatto altro? Sì, diciamo che nasciamo in un contesto meno urbano. Sono già tre anni che organizziamo il Festival delle Cose Belle nel weekend di Ferragosto. Lo abbiamo fatto i primi due anni nel Parco Nazionale d'Abruzzo a Passo Lanciano, quest'anno in Umbria. Ed è un evento che un po' riassume lo stesso spirito delle cose urbane di Chieti. Tentiamo di mettere in comunicazione artisti provenienti da diversi ambienti per creare trasformazione culturale e promozione sociale su diverse tematiche. Siamo contenti che possiamo tornare un po' nei nostri luoghi natali. Sono teatino e il collettivo nasce qui e finalmente possiamo tornare a fare arte e promozione culturale dove tutto è cominciato. Il 25 sarà dedicato ai cortometraggi, quali sono i nomi delle regie? Sì, anche sull'ambito cortometraggi siamo molto felici di dare spazio ad artisti locali, in particolare lo sceneggiatore e produttore Andrea Trono di Pescara, il regista teatino Matteo Di Liberato. Venerdì sarà invece la serata dedicata alla musica, si parte alle ore 21 con violino e invece alle 22 sarà la volta di Jimmy Hayes. Che cosa proponi? Allora il mio è un canto autorato, è un progetto che si chiama Tropical Noir, è un canto autorato un po' particolare perché tra note caraibiche, tropicali, psichedeliche, cerca di raccontare un po' quelli che sono i problemi e i disagi dell'uomo, della nostra società, quindi canzoni che raccontano di migrazioni, di guerre. Grazie. 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 Grazie.